Buio. Il buio più profondo che potete immaginare. Poi però a un tratto, una luce appare a illuminare un bancone che potrebbe essere di un classicissimo pub inglese o irlandese, dallo stile tipicamente vittoriano. Dello stesso stile è anche il corpetto che indossa la donna dietro al bancone, anche se sembra più uscita da un bordello di quel periodo. Attaccato al bustino dalle sfumature color pavone, scendono lacci ad agganciare calze a rete nere. Nonostante non possa vedere i suoi piedi, sono quasi certo che indossa tacchi altissimi. I suoi capelli neri sono sciolti sulle spalle, la pelle diafana, e appena solleva lo sguardo verso di me, mi accorgo che i suoi occhi hanno il blu del cielo della mia Irlanda, tempestosi e calmi al tempo stesso. Bellissima e sicuramente letale. Qualcosa però non torna. Sotto la mia cintura non accade nulla. Di fronte a una donna così, neppure a un morto potrebbe... Diamine, ecco cosa è successo. Sono morto. Ora ricordo solo vagamente le ultime ore in ospedale. I gelati che mia sorella mi portava sapendo che me ne sarei andato presto, e quanto desideravo quella dolce crema. Eppure ho lucidamente in testa tantissimi particolari della mia vita. Mi guardo in giro un po' smarrito. Nello specchio alle spalle della signorina al bancone vedo un uomo sulla trentina dai lunghi capelli scuri, gli occhi cerulei e attraente. Indubbiamente sono io. Ma qualche decennio fa. Mi avvicino al bancone con passo incerto, e facendomi coraggio mi siedo su uno sgabello. La donna mi guarda e mi sorride. Lo fa in modo languido, ma non malizioso. Senza che le dica nulla mi spilla una birra chiara, media. Alla perfezione, poi. Per la prima volta mi rivolge la parola. Benvenuto, George. Questa è per te. Ci conosciamo? Sono all'inferno? La donna versa con calma snervante una pinta di birra per se stessa. Poi si siede a sua volta su uno sgabello. Proprio di fronte a me. È davvero bellissima. Certo che sei all'inferno, George. Pensavi forse di esserti guadagnato il paradiso? Tu sai come mi chiamo? Sei Satana? La ragazza scoppia a ridere in modo quasi fanciullesco. Il capo in persona? Ci mancherebbe. Siamo buoni amici, però. E mi ha mandato qui per capire se sei davvero dei nostri oppure no. Il mio nome è Madame Brigitte. Ma puoi chiamarmi Madame? Sorseggio la mia birra. È buonissima. La migliore che io abbia mai assaggiato. Il sapore ambrato e quel retrogusto di miele mi rilassano. Per quanto possa rilassarsi uno appena morto è arrivato all'inferno. Cerco di realizzare realmente cosa mi stia accadendo. E l'unico modo che ho per farlo è parlare con la bellezza che ho davanti. Cosa ti può far pensare che io non sarei uno dei vostri? Il fatto che in realtà hai arrecato molto più male a te stesso che agli altri. Non direi. Ho fatto soffrire la mia famiglia, molte donne. Mi blocco al suo sensuale inarcarsi di un sopracciglio. Mio caro, qui abbiamo assassini, stupratori, pedofili. Non sopravvalutarti. Ma ora devo iniziare la mia analisi e quindi vorrei che mi parlassi un po' di te. Sono nato a Belfast. Madame mi blocca subito alzando una mano. Non voglio una noiosissima biografia. Inizia dal giorno che reputi il più importante della tua vita. Vorrei alzarmi per cercare di entrare in contatto con il mio corpo il più possibile e nonostante sappia che, comunque vada la chiacchierata con la bella madame, questo corpo non mi servirà più. Ci penso qualche secondo. Per un attimo vorrei poter dire che il giorno più importante della mia vita è stato quello della nascita di mio figlio, Calum. Ma sarei un'ipocrita. E dove mi trovo? Gli ipocriti non fanno che guadagnare punti. Quindi senza riuscire a dare un sorso alla mia birra, inizio a parlare. Il 14 settembre del 1963. Avevo 17 anni e giocavo nella squadra giovanile del Manchester United. A proposito, quanto ne sai tu di calcio? Più di quanto immagini. Prosegui. Questa volta il sorso di birra mi scivolò in gola naturalmente. Quel giorno fui convocato con la prima squadra. Primo match casalingo della stagione contro il West Brom. E io ero certo che non sarei entrato in campo. Poi accadde qualcosa. Jan Moir si era fatto male prima della partita e così, mentre ci stavamo dirigendo verso lo stadio, Matthew Bursby, l'allenatore, mi si avvicina dicendomi Oggi entri figliolo. Cristo. Ero così felice che... Non nominare la concorrenza, grazie. Ah, scusa. Quando dal tunnel dell'Old Trafford senti 55.000 persone che urlano per sostenere la tua squadra, pensi che valga la pena essere al mondo anche solo per vivere momenti come quello. E come un'altalena di paura e felicità che a quell'età non è semplice da gestire. Anzi, ti dirò, non ci si abitua mai. In ogni caso il mio rendimento fu pessimo, ma nonostante questo qualche giornale il giorno dopo parlo bene di me. Infatti non fui più chiamato in prima squadra fino a Natale. Il 26 dicembre in Inghilterra si gioca il campionato durante il Boxing Day. Viene chiamato così perché nei secoli scorsi le persone ricche in quel giorno distribuivano i poveri delle scatole piene di cibo e beni di prima necessità. Insomma, durante quella partita il Manchester United perde 6 a 1. Il giorno dopo a casa mia, a Belfast, arriva un telegramma che mi convoca a Manchester con la prima squadra per il match successivo, il 28 dicembre. Presi il primo aereo. Ripensandoci iniziò davvero tutto da quel momento. Il momento in cui Matt capì che sarei diventato importante per la squadra. Non per nulla fu il match in cui segnai il mio primo gol da professionista. Un destro dal limite dell'aria che si infilò all'incrocio dei pali. Vincemmo 5 a 0. Dammi il boccale. I miei occhi tornano sulla splendida creatura. Solo in quel momento mi accorgo che il mio sguardo era stato perso nel vuoto durante tutto il racconto. Come? Il boccale di birra. Fra una parola e l'altra l'hai svuotato. Te lo riempio. Dopo pochi secondi, incorniciati dal silenzio più totale, torna Madame con un nuovo boccale di birra pieno. Accorgendomi di non avere l'orologio al polso, pongo a lei una domanda. Che ore sono? Lei sospira quasi scocciata. George, hai capito dove ti trovi? Pensi che questo sia un posto dove il concetto di tempo sia quello che hai percepito tu fino alla fine della tua vita sulla Terra? Potrebbe essere passata un'ora o un secolo dal tuo decesso. Ma dove ti trovi è tutto diverso. Mio bellissimo George, sono ancora all'inizio della mia valutazione. In ogni caso dopo il match presi il primo aereo e tornai a casa. Mio padre era naturalmente molto orgoglioso e quando il giorno dopo il Belfast Telegraph pubblicò la foto del mio gol, il giornale fece il giro del quartiere in pochi minuti. Probabilmente se fossi vivo mi sarebbe scoppiato un mal di testa atroce. Ma non lo ero. Ero morto e lucido. Forse esattamente come ero sempre stato nella mia vita terrena. Cos'altro vuoi sapere? Tutto. Te l'ho detto, siamo solo all'inizio. Parlami della partita. Quella con la P maiuscola. La finale di Coppa dei Campioni del 1968 a Wembley. In quel momento credo di essermi sentito svuotato. La finale di Coppa dei Campioni del 1968 è stata una partita decisiva non solo per la mia carriera, ma per la storia del Manchester United, se non addirittura di tutto il calcio inglese. Quel match è stata la mia consacrazione e mi stavo rendendo conto di non ricordare nulla, che tutto l'alcol ingerito quella sera alla festa post partita a Russell Hotel di Londra e nell'arco della mia vita avevano cancellato quasi ogni ricordo di quegli 90 minuti. Sì, sapevo come erano andate le cose perché avevo rivisto la partita più volte successivamente, ma se avessi dovuto affidarmi solo alla mia memoria non avrei avuto nessuna immagine nella mia testa, se non qualche breve sprazzo dopo il fischio finale. Sarò sincero, se non fosse per aver avuto la possibilità di rivedere la partita non ricorderai nulla. L'alcol mi ha portato via le memorie di quei momenti e tante altre cose nella vita. Però è stato un match stupendo, di questo sono certo. Madame scende dallo sgabello e fa il giro del bancone. Mi prende la mano con decisione e mette in piedi anche me. Percepisce la mia più sincera diffidenza e mi sorride. Non abbia paura, signor Best. Mi segua. Non ho intenzione di farle nulla di male. La seguo fino alla porta del pub. Lei la apre e fuori non c'è nulla di quello che mi aspettavo. Siamo a bordo campo dello stadio di Wembley, quella sera umida del 29 maggio 1968.